Sai come sei arrivato a questo video? Beh, sì, in realtà ci sono diverse strade. Ma una delle vie più battute è quella di fare una ricerca su Google o in questo caso direttamente su YouTube per trovarlo fra i tuoi risultati. Sono sicuro che quando hai la necessità di trovare una risposta ad una tua domanda, quello che fai è andare su internet e digitare quello che desideri scoprire. Dopodiché ti affidi ai primi risultati che vedi o al massimo a quelli che sono presenti nella prima pagina di Google o del motore di ricerca che hai scelto di utilizzare. Ecco dove deve stare anche il tuo sito web. Sono Mirko Cuneo e oggi voglio parlarti dell'importanza di apparire in prima pagina su Google. Se hai un sito web o un e-commerce è una delle variabili principali da prendere in considerazione per essere trovato da un maggior numero di clienti. Prima però, se ancora non lo hai fatto, iscriviti al mio canale e attiva le notifiche cliccando sulla campanella che trovi qui sotto. In questo modo potrai rimanere aggiornato su questo e su molti altri argomenti dedicati agli imprenditori e ai professionisti che vogliono ottenere il meglio dal proprio business. Ma ora ti starai chiedendo a che cosa serve tutto ciò. Il tema che affronto oggi si chiama posizionamento e serve proprio per portare più traffico di potenziali clienti sul tuo sito web e per innalzare le tue possibilità di chiudere delle vendite. Infatti una cosa che non mi stancherò mai di dire e che rende davvero bene il concetto è che se sei presente su internet magari con il prodotto migliore del mondo ma nessuno lo sa, allora è un po' come non esserci e il risultato è che non venderai mai. Se hai un'attività il tuo obiettivo è di farti conoscere e trovare dei consumatori potenzialmente interessati dalla tua offerta. Quindi apparire in prima pagina su Google con le tecniche che funzionano è indispensabile per andare a intercettare le persone che vogliono risolvere un loro problema e per mostrargli che tu hai la soluzione. Come capita anche a me e a te, le persone che fanno una ricerca online si limitano a cliccare sui risultati che appaiono in prima pagina molto difficilmente andranno alla seconda. Quindi figuriamoci se perdono tempo con la terza o la quarta. Su cosa si lavora quindi per far trovare il tuo sito web ai tuoi potenziali clienti? Se per te questo argomento è nuovo, ma anche solo per fare un ripasso e chiarire le idee, i due concetti principali che ti voglio mostrare oggi sono indicizzazione e posizionamento. Sono entrambi dei termini tecnici ma conoscerli ti sarà molto utile per riuscire a prendere le decisioni giuste per il tuo business. Adesso te li spiego con parole semplici e vedrai che riuscirai subito a comprenderli. Spesso queste due parole indicizzazione e posizionamento vengono confluse fra loro oppure sono usate come sinonimi. In realtà si tratta di due concetti differenti che comportano azioni strategicamente altrettanto differenti fra loro. Partiamo con il termine indicizzare un sito su Google. Significa che il tuo sito web, che prima non era presente in internet, passa ad essere presente e quindi ha la possibilità di essere trovato. Questo indipendentemente dalla posizione in cui si trova. In parole più semplici, prima non c'eri, ora ci sei. E' importante che l'indicizzazione sia fatta nella maniera corretta, seguendo i giusti metodi, perché altrimenti potresti avere due problemi. O il tuo sito non appare proprio, oppure appare ma con degli errori di cui potresti non accorgerti e che gli faranno avere delle penalizzazioni che incidono sulla sua posizione su Google. Passiamo allora al secondo concetto, quello di posizionamento. Posizionare il tuo sito su Google significa fargli scalare i risultati del motore di ricerca per farlo apparire nella prima pagina e per renderlo visibile fra le prime posizioni, proprio quello di cui parlavo prima, cioè quelle che vengono scelte dagli utenti che cercano qualche cosa o qualche soluzione online. E qui entrano in gioco tutte le strategie che servono a fare in modo che il tuo sito web venga considerato di valore per il motore di ricerca. Per definire tutto questo c'è un'altra parola tecnica, che è ottimizzazione SEO, scritto proprio SEO. Ti stai chiedendo di cosa si tratta? Te lo spiego subito. Mi riferisco a tutto quell'insieme di tecniche che devono essere seguite per la realizzazione di pagine web, in modo che Google ti premi facendoti apparire in prima pagina. Queste strategie vanno applicate sia per la creazione di tutta la struttura del sito, sia per la pagina prodotto, sia per quelle degli articoli, se hai anche un blog. Ogni contenuto che appare su internet, in questo caso mi riferisco a Google in particolare, deve essere efficace da due punti di vista. Da un lato deve risultare attraente per gli utenti, altrimenti decideranno di proseguire la loro ricerca altrove. Dall'altro lato deve essere riconosciuto come un contenuto di valore da Google. Quindi deve avere tutte le caratteristiche che gli permettono di essere premiato e di scalare i risultati della SERP. Anche questa è un'altra parola specifica e serve per indicare proprio la pagina dei risultati che ti fornisce Google dopo che cerchi qualcosa online. Solo se pensi all'indicizzazione e al posizionamento e fai costruire le tue pagine web con le tecniche giuste, potrai essere presente fra i primi risultati e ottenere ovviamente molto più traffico. Questo si andrà a tradurre poi con maggiore notorietà, acquisizione di potenziali clienti, successiva conversione e ovviamente aumento delle vendite. Bene, adesso che abbiamo carito l'importanza di avere un sito web che venga trovato dagli utenti, vediamo le tre variabili principali che servono per farti premiare da Google e per trattenere i tuoi potenziali clienti. Variabile 1. L'estetica e la struttura di ogni pagina. Per prima cosa ti devi assicurare di avere un sito web ben strutturato, ovvero che sia facile e intuitivo da navigare. È importante che gli utenti capiscano subito dove andare per trovare le informazioni che gli servono. Se il potenziale cliente non capisce, la prima cosa che fa è andarsene per passare al risultato successivo. Un'altra cosa che dà valore al tuo sito agli occhi delle persone è proprio il come si presenta. I gusti si sono evoluti e le persone sono attratte da determinati standard di bellezza. Se questi standard sono riconosciuti all'interno del tuo sito, allora gli utenti saranno più disposti a fermarsi. Inoltre, se il tuo sito è ben strutturato, in maniera gerarchica e logica, anche Google riuscirà a leggerlo e ad andare ad interpretarlo. Un po' come per gli utenti. Se Google capisce e trova contenuti di valore, allora premierà le tue pagine. In caso contrario, darà rilevanza, purtroppo, ai siti dei tuoi competitor. Un'altra cosa importante è avere un sito web veloce, cioè con pagine che si carichano in fretta, cioè meno di tre secondi, e che sia visibile molto bene anche dagli smartphone. Infatti, la maggior parte delle ricerche oggi avvengono da telefono cellulare. Passiamo alla variabile numero due, le parole chiave. Un errore comune che durante la mia esperienza lavorativa ho notato che fanno in molte aziende è di tentare di ottimizzare una pagina con la parola chiave sbagliata, o peggio ancora, senza sceglierne una. Innanzitutto, una parola chiave è un termine formato da una o anche da una serie di parole che evidenzia il concetto per il quale vuoi essere trovato. Un esempio renderà tutto subito più chiaro. Immagina di occuparti di abbigliamento. Una parola chiave potrebbe essere abbigliamento estivo uomo e ti servirà per costruire una scheda dedicata alla vendita di indumenti per gli uomini in estate. Ovviamente ogni attività ha le proprie parole chiave e queste devono essere decise prima di creare il contenuto perché devono descrivere ciò che offri come servizio o prodotto, o meglio ancora, come soluzione per il cliente. Quali sono le parole chiave giuste da andare a scegliere? La risposta è che dipende. Devono essere concetti che descrivono chiaramente la tua attività ma che vengano anche cercati online dalle persone. La ricerca delle parole chiave è una delle strategie che appartengono alla SEO di cui abbiamo parlato prima e per farla ci sono dei metodi e degli strumenti appositi utilizzati dai professionisti. Ora vediamo la variabile numero 3 l'ottimizzazione dei contenuti. Mi riferisco sia alla parte testuale ma anche al modo in cui appaiono le immagini o i video. Tutto ciò che è presente sul tuo sito deve essere unico e accattivante per gli utenti ma deve seguire delle regole ben precise in modo che sia anche apprezzato da Google altrimenti le tue pagine non si posizionano e quindi non portano a competere. Qui entra in gioco anche il blog che ha un ruolo fondamentale perché ti permette di andare a lavorare sul posizionamento di più pagine relative al tuo sito. Vuol dire che puoi scegliere un numero maggiore di parole chiave attraverso cui farti trovare e dare informazione agli utenti. Quindi avere un blog ti dà maggiori possibilità di avere un sito riconosciuto come di valore e per apparire nella prima pagina di Google. Inoltre è importante quello che c'è scritto nei tuoi articoli perché le persone cercano online le risposte alle loro domande. Se non le trovano sai cosa succede? Semplicemente chiudono la tua pagina web e passano ad un'altra. Tenere attiva l'attenzione delle persone e anche quella di Google è diventato sempre più difficile ma fra le tante cose è proprio ciò che ti preme di più. Insomma quella del posizionamento è una scalata difficile e piena di giudici ma se agisci nel modo corretto funziona e porta grandi risultati. Facciamo quindi un piccolo riepilogo delle tre variabili principali che ti servono per posizionare il tuo sito sui motori di ricerca. Uno fai attenzione all'estetica e alla struttura di tutto il sito. Due seleziona le giuste parole chiave. Tre pubblica contenuti ottimizzati e di qualità. Se sei arrivato fin qui hai capito tutto ciò che è necessario fare per apparire in prima pagina su Google. Ora bisogna solo farlo. L'indicizzazione e il posizionamento sono due fattori delicati da trattare e anche la produzione di contenuti adatti lo è. La cattiva notizia quindi è che non è semplice comprendere strategicamente che cosa sia meglio fare per te per ottenere i risultati che ti aspetti. La buona notizia però è che ci sono degli specialisti preparati per darti la risposta giusta. Lo sai quanti professionisti servono per fare questo lavoro? almeno tre. Un SEO, un copy e un digital strategist. Ovviamente se vuoi farlo bene. Personalmente collaboro con tutti loro che mi affiancano nel lavoro e che permettono al mio sito di essere uno strumento molto efficace per trovare i miei clienti. Se anche tu desideri ottenere gli stessi risultati chiedimi come. Sarò felice di analizzare il tuo progetto e capire insieme a te come raggiungere le prime posizioni di Google. Grazie per la visione!